Se siete anche voi alla ricerca di Ender Pearl, ma lo sappiamo, gli Enderman non sono mob facilissimi da uccidere, anche solo perché si teletrasportano, avete davanti a voi la prima farm di Enderman. Ciao a tutti ragazzi e bentrovati su Zella Games, anche oggi siamo su Minecraft e oggi siamo su Minecraft. Siamo qui con una fabbrica di Enderman e quindi Ender Pearl, ma non solo, anche esperienza. Innanzitutto salutiamo e ringraziamo Ender Knight che d'altronde chiamandosi così ci propone questa fabbrica di Enderman, ma anche a tutti gli altri utenti che hanno ribadito questa proposta, comunque ho visto particolare interesse. E passiamo al tutorial, ma prima volevo annunciarvi che ho aperto la pagina Facebook di Zella Games, trovate in descrizione, comunque è facebook.com slash zellagames e qui troverete tutti i miei video che condividerò sulla pagina e se volete avere maggior probabilità di finire nel prossimo video dovrete condividere il video su Facebook commentando appunto nella condivisione hashtag helpzella, così sarà più facile per me trovarli e appunto è più facile anche che vi metta nel prossimo video. Comunque adesso iniziamo veramente e passiamo al tutorial. La prima cosa da fare è entrare nel land per questo tutorial, quindi non si può fare nel mondo normale. Una volta che siamo nel land, però non è finita qui, dobbiamo cercare una zona diciamo abbastanza piatta e se non c'è dovrete farla voi, nel senso che dovrete livellare un po' la zona sottostante, perché questo? Per avere maggiore afflusso di Enderman, ok guardate qui quanti ce ne sono. Per esempio qui fare una bella pianura avrete sicuramente tantissimi Enderman e quindi tanta tanta produzione. Questa fabbrica qui, come d'altronde anche altre presenti su YouTube, si basa sull'utilizzo di un mob. Si chiama Endermite, iniziamo subito. Allora mettiamo due blocchi, poi a questi due blocchi intorno distruggiamo, così in questo modo. E poi andiamo giù di tre blocchi, ok? Allora adesso non so ragazzi se voi vedete benissimo, però per sicurezza metto un secondo le torce. Ok, abbiamo questa struttura e a questo punto, in corrispondenza di questi due blocchi, facciamo un'altra sporgenza da questa parte. E ancora giù di tre. E' già un Enderman si è, belle che è piazzato dentro. A questo punto prendete dei cartelli e li piazzate qua, uno qui e uno qui. Dopodiché allarghiamo ancora il buco da questa parte, seguendo sempre l'altezza di tre. E da questa parte. Ok, una cosa di questo tipo. Poi, proseguendo con i nostri blocchetti, saliamo di tre, uno, due e tre. Poi, allarghiamo e facciamo una piattaforma larga tre e lunga quattro. Quindi tre e quattro. Ok. In questo modo qua. Vedete? Anche da questa visuale qui abbiamo la configurazione della struttura. Poi, innalziamo delle pareti qua intorno. Alte due. Dopodiché prendiamo due Powered Rail. E le mettiamo qua in fondo. Prendiamo i Minecart. Lo mettiamo qua. Bene ragazzi, ora arriviamo alla parte più complicata e noiosa del tutorial. Perché dobbiamo spawnare questo piccolo mob. Che, però, ha una percentuale di successo del 5% per ogni Ender Pearl che lanciate. Di conseguenza, non è così facile che arrivi subito, ma neanche troppo complesso. Infatti, dovrete, però, utilizzare queste Ender Pearl e buttarle dentro. Ogni volta che le usate... Aspettate. Ogni volta che le usate, avrete del danno di circa due cuori, appunto. Per farvi vedere velocemente, io nel video andrò a utilizzare una Golden Apple, che avevo già mangiato prima. Così ho la rigenerazione. Però, se non volete sprecare niente, voi dovete aspettare. Ogni volta vi si ricarica la vita. Anche per questo potrebbe essere noioso. Perché se non vi esce subito questo... Questo mob... Eccolo, eccolo. Dai, 16 Ender Pearl ci ha messo per noi. Potrebbe mettercene anche una o due. Che cazzo? Ah, però, nei casi che vi va male, potete sprecarne tante, ve lo dico. A questo punto, dobbiamo cacciarlo nel carrello. Forse ce l'abbiamo già fatta. Eccolo. È nel carrello. E, fatto questo, possiamo andarcene un attimo via. Perché? Perché dobbiamo subito creare una Name Tag. Era meglio se la facevamo prima. Perché questa ci permette di non far despawnare il mob. Altrimenti, tra due minuti, se non siete lì vicino, se ne va. Lo chiameremo ostaggio, proprio perché è quello il suo compito, nel nostro caso. E vabbè, ovviamente, potete mettere quello che volete. E poi lo clicchiamo su di lui. Se lo prende. No, ok. Bisogna farlo prima di metterlo nel carrello. Prima di metterlo nel carrello, fatevi la Name Tag. E adesso lo rimettiamo. Perfetto. Vedete, adesso non si vede la Name Tag. Però ce l'ha, perché l'abbiamo visto prima. Quindi, siamo arrivati a questo punto. Siamo a buon punto, lo posso dire adesso. Allora, vediamo un attimo sotto com'è la situazione. Ok, dobbiamo far andare a livello qua. Quindi da questa parte il carretto. Ok. E questa la possiamo togliere. Il carrello rimane lì. E adesso, a partire da questo livello dove abbiamo messo i cartelli, dovremo distruggere 40 blocchi verso il basso. Quindi, 1, 2, vabbè, e anche questi intorno. Giù fino a 40, ok? 40. E siamo arrivati in fondo. Ho fatto una striscia. Adesso completo le altre. Arrivati a livello 40, distruggete uno strato qua. Così. E poi, anche qui un attimo. E poi scavate in giù. Così. In modo tale che gli Enderman arriveranno qua. Voi qui adesso potete richiudere. E qui ci saranno le loro gambe. Potrete direttamente con un colpo, anche con un item come la torcia o a pugni. Quindi senza consumare armi. A ammazzarli in un singolo colpo. Poi io vi consiglio di spostarvi un po' in là. Non proprio attaccato perché poi c'era sulla struttura. Quindi 1, 2, 3, 4 per esempio. E farvi una bella scalinata che va sopra. In modo che non riceverete danno. Oppure vabbè, classici metodi. Acqua in fondo. Comunque. Per andare sotto. Di qua invece. Dovremmo completare la struttura. Con un secchio. Due secchielli d'acqua. Ne mettete uno qui. No, qua cos'è? Ho sbagliato prima. Due secchielli d'acqua così. Ok? Che creano la corrente. Poi. A questo punto abbiamo quasi finito. Come vedete non è sul livello. giusto. Quindi magari questo qui ne attira meno. Però io ve l'ho detto all'inizio. Dovreste fare un bel livello. Fate una bella piattaforma. Da quello che vi ho letto. Dovrebbero attirare gli enderman. Fino a 32. Circa 32 blocchi per parte. Se lo mettete in mezzo. Comunque. Fate comunque la bella piattaforma. Ve lo consiglio. A questo punto invece. Dobbiamo proteggere il poveretto lì in mezzo. Con un po' di vetro. Eh sì. Con un po' di vetro qua sopra. E poi arriva una parte abbastanza importante. Che è quella di incanalare gli enderman. E dovremo utilizzare le slab e le botole. Quindi prendiamo le botole. Le mettiamo due qui. Che chiudiamo giù così. E due di qua. Ok? E infine. Prendiamo le slab. E le mettiamo qua. Due. E qua due. Solo a questo punto. Andremo a distruggere questa striscia. Di blocchi. Dove abbiamo il carretto. Con l'ostaggio. E poi. Vedremo che i primi enderman. Non verranno attirati. Guardate. E già. Cadranno giù. Nella. Nella trappola. Se uno non vuole andare. Poi gli altri ci penseranno a spingerlo. Comunque. Completiamo l'opera. In modo che sarà più visibile. Distruggendo. Anche questa. Striscia qua. Lasciando invece. Solo il blocco. Del carrello. Anche qua sotto. Possiamo distruggere. Questi due blocchi qui. Ok. Come vedete adesso. Va molto meglio. Perché hanno più spazio. E come vedete. Funziona molto bene. Perché. Quasi tutti gli enderman. Che si trovano sullo stesso livello. Vengono attirati. Quelli lì. Invece. Sono troppo in basso. Se io facevo la piattaforma. Anche quelli lì. Venivano attirati. In questo caso. Però. Hanno alcuni problemi. Poi vabbè. Ci sarà qualche rimbambito. Che sta fermo. Qui non si capisce bene il motivo. Però. La maggioranza viene attirata. Qua dentro. Va bene ragazzi. La struttura qua. È pronta. Come vedete. Fa il suo dovere. L'unica cosa. Che si può fare adesso. È lavorare qua sotto. E quindi. Allora. Innanzitutto. Vabbè. Qualcuno è morto. Per motivi strani. Ah ok. Qualcuno di questi enderman. Come vedete. Muore. Probabilmente. Ho fatto. 40 blocchi. Era meglio fare. 39. Ok. Facciamo che. Modificare. Allora. Come vedete. Intanto però. Sono in creativa. Voi direte. Tolgo di più. Non è vero comunque. Sono in creativa. No. Adesso sono in survival. E come vedete. In un colpo solo. Muoiono tutti. Però dal momento che abbiamo visto. Porca. Troia. Dal momento che abbiamo visto. Però che. Sembra. Muoiono alcuni. Per caduta. Possiamo. Alzarla. Di un blocchetto. E quindi fare. Eh. Uno scavo. Di 39. Al posto. Che 40. Ok. Vediamo se il risultato è lo stesso. Nel senso che basta un colpo. Di pugno. Per ucciderli. Vediamo se è vero. Provo a dargli un colpo. Ok. Forse è meglio fare 39. Per avere maggior sicurezza. Qua sotto. Noi potremo decidere. Quindi. Se fare un XP farm. E lasciare così. Quindi. Boom. Arrivano qua sotto. Voi andate qui. Prendete esperienza. E ender pearl. Se invece. Voi volete una. Solo ed esclusivamente. Fabrica di ender pearl. Automatica. Che poi. Mi pare. Che dovrete stare qua dentro. Nell'end. Se volete che funzioni. Perché se no. Non viene. Caricato il chunk. Su questo. Non ne sono certo. Sarebbe da provare. Comunque. In ogni caso. La soluzione. È. Andare giù. Ancora. Due tre blocchetti. Sì. Perché come vedete. Qua resistono. Poi. Non so. Qualcuno. Resiste più degli altri. Non so bene il motivo. Comunque. Volutate un attimo. I livelli. Per il quale funziona meglio. Io vi ho detto. 40 o 39 per l'XP farm. E. Un po' di più. Se volete ucciderli. Ecco. Qua finisce. L'end. Praticamente. Per ucciderli. Dovete arrivare a filo. Con il termine dell'end. E infatti. Qui vengono. Ammazzati. E. Così. Vedete. Droppano le ender pearl. Potete fare il solito. Lavoro. Cioè. Prendere. Degli hopper. Prendere. Delle chest. Potete fare il solito lavoro. Mettete. Prendete una chest qui. Ci mettete. L'hopper. Che va qua dentro. E. Tutti questi qui attorno. In modo che. Ehm. In modo che. Vengano. Tutti portati all'interno di qua. Adesso vediamo subito. Poi qui fate. Magari così. Per non. Non cospargere. Gli enderman. Dove non volete. Appunto. Le ender pearl. Dopo saltano dove vogliono. Quindi questa è la versione. Fabbrica automatica. Ok. Come vedete. Le stanno raccogliendo. Le ender pearl. Arrivano. Quello è morto. Senza droppata. La sfiga di turno. C'è sempre. E sì. Come vedete. Però. Farma bene. Farma molto bene. Questa. Fabbrica qui. A livello di esperienza. Comunque. Nel giro di 5 minuti. Dovreste fare. Una trentina di esperienza. Sicuro. Forse anche in meno tempo. E quindi. Anche solo come XP farm. Vale veramente la pena. La difficoltà che incontrate. Appunto. È. Dover andare nel land. Avere un po' di ender pearl. Iniziale. Per fare l'ender smite. E alcune cosette qua e là. Però. La fabbrica. Funziona molto molto bene. Ok ragazzi. Oggi vi ho mostrato come costruire una fabbrica di enderman e ender pearl. Ma non solo. Anche fabbrica di esperienza. Se vogliamo. Questo video finisce qui. Condividetelo su Facebook. Lasciate un bel mi piace. Commentate. E ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti.